Cristian Invernizzi, perché siete preoccupati per l'aeroporto di Orio al Serio? Motivo molto semplice nel decreto Destinazione Italia, vi è una norma che qualora non fosse modificata al Senato comporterebbe per l'apertura di ogni nuova rotta la necessità di fare un bando quindi con tempi lunghissimi impedendo anche ai manager quindi per esempio di Orio al Serio di potersi muovere con velocità e agilità nel difficile mercato comunque del trasporto aereo. Ci sono state manifestazioni da parte dell'attuale maggioranza in particolare da parlamentari del PD di Bergamo di volontà di risolvere questa situazione cosa che purtroppo non hanno assolutamente fatto anzi hanno modificato lievemente questa norma ma che non elimina questo pericolo. Ormai speriamo soltanto nel Senato, speriamo che il governo e la maggioranza capiscano che intervenire in un modo così devastante in una situazione come quella di Orio che ha ben altri problemi rispetto a quelli della capacità di concorrere sarebbe un grave danno ad una terra come quella bergamasca che in questo momento ha bisogno di tutto tranne che di non poter sviluppare le proprie potenzialità. In sintesi la vostra proposta è che cosa dare a Orio al Serio? No, la situazione deve rimanere quella che è attualmente che consente appunto agli assetti manageriali dei vari aeroporti di poter stare sul mercato e di poter quindi concedere nuove rotte in tempi sostanzialmente brevissimi. Questo ripeto in un sistema intercato come quello del trasporto aeroportuale è fondamentale. Vincolare invece gli assetti manageriali a tutta una serie di regole, bandi e quanto di conseguenza determinerebbe soltanto un piacere alle grandi compagnie e facciamo un nome all'Italia e la impossibilità quindi di sviluppare dal punto di vista economico settori importanti rispetto a come per esempio una bergamasca è quello che è Orio al Serio e tutto l'indotto.